Ragazzi, ragazzi, ma che conferenza stampa è stata? Io spero che voi l'abbiate vista tutta Simba, tu l'hai vista? Lui non l'ha vista, ragazzi, Petrachi, Petrachi, è il mio uomo, è il mio uomo, divento gay, lo dico, divento gay, voglio Petrachi nella mia vita Ragazzi, ma che conferenza stampa ha fatto? Cioè, allora, alla fine c'è stato un tizio che a conferenza stampa ha chiuso, ha detto, posso fare una domanda, visto che sto da vent'anni qua Ha detto, intanto lei è già entrato nel mio cuore perché dice la verità E questa è la cosa, ragazzi, questa è la cosa Ha detto tutte le cose che praticamente già si sa, si smontami tutto, è ok Ha detto tutto quello che è praticamente uscito, ha detto la verità su qualunque cosa, senza peli, sulla lingua E questo è il direttore sportivo che vogliamo noi, non quello che fa proclami, ci vediamo al circo massimo Ma va a cagare, monci di merda Allora, partiamo da, ci sono tante cose, ragazzi, c'è due pagine Allora, partiamo subito Alla domanda su Fonseca Lui ha detto che Fonseca l'aveva già seguito quando era ai tempi di Torino perché voleva portare un giocatore dello Shakhtar al Torino E vedendo le partite di questo giocatore qui è rimasto stregato da come questo giocatore si muoveva nel campo Con un'idea ben precisa E di lì già Fonseca cominciava a piacergli E quindi hanno deciso di puntare su Fonseca Ma non era la prima scelta Fonseca Adesso ci torniamo sul discorso Conte Per quanto riguarda obiettivi, eccetera, eccetera Che era una domanda neanche da fare Lui ha detto che bisogna essere realisti La Roma non ha degli obiettivi specifici Ovviamente sarà quello di tornare in Champions League Ma la Roma è per l'ennesima volta all'anno zero Ci vogliono giocatori motivati Non con la pancia piena Con la pancia? Non con la pancia Ci aggiungo io Che i guain Vabbè, poi ne parliamo dopo E giocatori motivati Che devono venire a Roma motivati Allora Ha parlato molto del fatto che la Roma Non deve essere una succursale La prima domanda che gli è stata fatta È stata sull'attaccante Ed è stato chiarissimo Ha spiegato bene la questione Gieco Di Scic non ha parlato Ha detto Gieco ha minacciato la Roma Gieco sei schifoso Ti devi vergognare Invece di baciare Sputi nel piatto in cui hai mangiato Gieco ha minacciato la Roma Ha detto così Gieco ha minacciato la Roma Ha trovato l'accordo con l'Inter Già da tanto tempo Quando era ancora il campionato Quando c'era ancora il campionato Caro Gieco Vergognati E ha minacciato la Roma E lui ha detto Io non mi faccio prendere per la gola da nessuno Se lui vuole andarsene Quella è la porta Ma l'Inter mi deve portare il grano Mi deve pagare il giocatore Fino all'ultimo centesimo Bello Fantastico Le parole che volevo sentire Ecco perché vi dico Vi dico che la Roma Non vende i giocatori Alle dirette concorrenti Gli unici due giocatori Che sono stati venduti Alle dirette concorrenti Sono andati via per colpa della clausola E ci ritorneremo con Manolas Ci ritorneremo su Manolas Perché ha mandato frecciatine a Manolas Come se non ci fosse un domani Lui ha detto Io voglio giocatori motivati E ha parlato di Diavara Diavara ha detto Mi ha chiamato Diavara ha chiamato Petrachi Dicendogli che Poteva benissimo evitare di fare le vacanze Pur di stare dal primo giorno In ritiro con la Roma E lui dice Queste sono le persone che voglio Io prima dei calciatori Voglio vedere Voglio comprare la gente motivata Voglio vedere prima l'uomo E poi il giocatore Questo è fondamentale per ripartire Ragazzi Questo è fondamentale E ha detto A più riprese Che Manolas voleva andare via Manolas voleva andare via Ha detto che lui ha parlato Petrachi ha parlato con Raiola Raiola gli ha mostrato La voglia di Manolas Che Manolas voleva cambiare aria Quindi E' Manolas che ha voluto andare via E' esercitare la clausola Iguain Gli hanno fatto la domanda su Iguain Iguain può essere il degno sostituto di Dzeko Lui ha detto Io non voglio parlare Di trattative eccetera eccetera Però ha fatto capire comunque Che qualcosa in ballo con Iguain c'è Però ha specificato che Iguain deve essere motivato Io non prendo giocatori solo perché hanno la nomea del top player Quale Iguain è ragazzi Perché lui ha detto Ho letto che c'è gente che sputa su Iguain Se ci lamentiamo di Iguain ragazzi Veramente siamo al paradosso Però la cosa importante che lui dice Iguain deve avere fame Non di pasta Ma fame sportiva e calcistica Deve essere motivato Perché altrimenti io non lo prendo solo perché è Iguain Secondo lui Iguain può rilanciarsi a Roma E la piazza giusta per rilanciarsi può fare come Battistuta Vabbè questo è un paragone un po' troppo Un po' esagerato Però lui spera ancora in Dzeko Ha detto Io spero che quando inizierà il ritiro Dzeko si renda conto che qui l'aria è cambiata Che ci sono regole diverse eccetera eccetera E magari può cambiare idea e rimane alla Roma Altrimenti l'Inter mi paghi il giocatore per quanto vale Poi ha lanciato un messaggio Ha detto che forse oggi ci chiude per un giocatore Dovrebbe essere Gianluca Mancini Perché a quanto mi risulta è quello più probabile in questo momento Dubito sia Paul Lopez sinceramente O Alderweald o robe del genere C'è un aneddoto su Alderweald che andiamo a fare Però secondo me si tratta di Mancini Ha detto se riesco a chiudere Capitolo Barella Che cosa è successo? Ha praticamente spiegato che la Roma Quando c'era Monci Si era già seduta al tavolino con Barella Più di una volta E Barella aveva gradito la destinazione Poi non se ne è parlato più Perché Monci è andato via Ci sono stati problemi eccetera eccetera E si è inserita l'Inter con Conte In quel caso è stato il Cagliari a chiamare la Roma E a dire guarda che c'è l'Inter Che praticamente ha fatto un'offerta per Barella E c'è il gradimento del giocatore E lì Petracchi ha detto va bene proviamoci E ha praticamente fatto l'offerta per Barella Che è superiore a quella dell'Inter Quindi ha praticamente detto Che il Cagliari vuole mandarlo alla Roma Ma il giocatore vuole andare all'Inter E ha detto io non costringo nessuno Deve essere Barella a chiamarmi A dire direttore ho cambiato idea Voglio venire alla Roma Altrimenti io non prego nessuno Ha scelto di andare all'Inter Benissimo Per me Barella è un capitolo chiuso E qui che cosa gli vuoi dire? Cosa vuoi dirgli? Senza illudere ragazzi Così si fa Parlate in faccia Parlate dite le cose come stanno Porco zio Così si fa Così si fa Porca miseria Allora Poi c'è stato un altro punto interessante Riguardante Baldini Non so quanto dura sto vivendo Ma chi se ne frega Su Baldini Gli hanno fatto la domanda Ma Baldini che ruolo ha All'interno della società La società Lui ha detto Baldini è un consulente È un consulente È un consulente di pallotta E praticamente Ha detto che fin quando c'è una collaborazione tra i due Tra me e Baldini A me va benissimo Nel senso che fin quando bisogna concordare Su quanta disponibilità c'è su un giocatore Economicamente loro devono dirmi se posso o non posso Ma tecnicamente io voglio tutte le responsabilità Non devono mettere naso nei giocatori che io voglio prendere E in questo momento In questo preciso Dopo questa frase Ha detto Ha fatto un aneddoto Che mi lascia pensare Ad Alderweil Praticamente ha detto Se Baldini un giorno mi chiama E dice Guarda direttore Ho la possibilità di prendere questo giocatore Perché ho degli agganci All'interno di quella società E quindi Ho una corsia preferenziale A te piacerebbe prenderlo? E lui da direttore le dice Guarda Baldini A me interessa A me non interessa Lui così vuole lavorare E ovviamente si parla di Alderweil Perché Baldini conosce il Tottenham Non so se fa ancora il consulente del Tottenham Eccetera eccetera Quindi ha detto Se arriverà il momento Che io non deciderò più che i giocatori comprare Non mi vedrete più su sta poltrona Beh, bello, chiaro, tondo Ha detto Io devo comprare i giocatori anche sentendomi con l'allenatore E non come ha fatto Monci Che non si è cagato minimamente le richieste di Francesco Caro Monci Eh? Ma va a cagare Su Zagnolo Oh, arriviamo a Zagnolo ragazzi Arriviamo a Zagnolo Hai parlato con Zagnolo? Zagnolo di qua, di là Lui ha detto No, non ho parlato con Zagnolo Ci voglio Voglio Parlarci appena torna Perché lui non ha parlato con nessun giocatore Tranne che con Kolarov Che voleva parlare con il direttore Lui ha detto Qui si fa presto a far diventare miti Giocatori che Fanno appena 15 presenze in serie Ah, madonna Lì son venuto ragazzi Lì son venuto Ha detto L'anno scorso ha iniziato bene Ma poi si è perso Perché ha perso un po' Quel modo di lavorare Di allenarsi bene Cosa che aveva fatto all'inizio Questo è un direttore Cazzo ragazzi Ha praticamente detto Zagnolo Tu hai fatto bene solo tre mesi Non puoi pretendere l'ira di Dio E poi fregarti negli ultimi mesi E montarti la testa Lui ha detto È un giocatore importante Ha tutte le qualità Le caratteristiche per diventare un top Ma non deve montarsi la testa Noi vogliamo parlare di rinnovo E di adeguamento Ma con le cifre opportune Senza strafare Ed è quello che ha detto Anche su El Sharawi ragazzi Ha detto Noi vogliamo il rinnovo di El Sharawi Vogliamo che El Sharawi Rimanga a Roma Però Non dobbiamo Alle cifre giuste Vogliamo rinnovare Senza strafare Noi i soldi che gli dà la Cina Non possiamo darglieli Quindi se lui vuole andare via Per prendere più soldi Noi non possiamo far nulla I cinesi ci portassero I soldi Che vale El Sharawi E che ci permettano Di trovare un suo sostituto Altrimenti El Sharawi Mi dispiace Dovremo venirci incontro Bello Chiaro Chiaro ragazzi Quindi El Sharawi È tentato Dall'offerta della Cina La Roma vorrebbe rinnovare Ma siccome El Sharawi Chiede 4 milioni all'anno E caro El Sharawi Vattene in Cina Se è così Scusate C'è stata anche la domanda Sul caso Strotman Lui ha detto Ci sono un sacco di nomi Che escono Che vanno e vengono Durante il calciomercato Si è parlato Di questo scambio Di giocatori Di uno nostro Con uno loro Però non è Non è una cosa che si fa Ha detto chiaramente Chiaramente Ha detto che il Marsili Ha proposto lo scambio Con Zonzi E lui non Non ha accettato Chiudiamo ragazzi Con la questione Florenzi Gli hanno fatto la domanda Su Florenzi E lui ha mandato Delle frecciatine A manolassi incredibili Ha praticamente detto Ma sapete Quando io ero giocatore Quanto ne ho visti Di giocatori Che in campo Baciavano la maglia Per farsi vedere Da tutti quanti E poi arrivavano Negli spogliatori Dicevano che volevano Andarsene Quali video Sono usciti ultimamente I giocatori Che baciano maglia Ma non lasso Poi ha detto O di giocatori Che fingono Di farsi male Durante le partite Prima di partite Importanti E fanno i fenomeni Quando c'è da giocare Partite meno importanti Ragazzi Facciamo un applauso Direttore Io voglio chiudere così Voglio chiudere Anzi Con una frase Che ha detto Bellissima Fare qualcosa Di buono Nella Roma Vare il prezzo Della vita Pazzesco Ah poi ha detto Ha parlato anche di Conte Ha parlato anche di Conte Ha detto che Praticamente Conte Voleva vincere Nell'immediato Secondo lui L'Inter aveva più possibilità Di vincere Nell'immediato A Roma Bisognava rifondare E quello che sappiamo tutti Però poi alla fine Ha detto Se ci sono allenatori Che Danno un'impronta Ben precisa Questi allenatori Riescono a far colmare Il gap Con le squadre più forti E noi E' quello che cercheremo Di far capire All'amico Antonio Ha detto Che con un allenatore capace Anche se hai Una squadra più debole Hai la possibilità Di colmare il gap Con le big Ragazzi E qui E qui ragazzi Io chiuderei Perché sto venendo